La situazione è ovviamente particolarmente critica Se è detto questi ultimi dati che avete perfettamente inquadrato precedentemente lo dicono chiaramente Dopo alcuni piccoli segnali che c'erano stati all'inizio del 2011 di cauto ottimismo Abbiamo assistito nella seconda metà soprattutto del 2011 a un forte peggioramento della situazione Che continua in qualche modo anche in questo primo trimestre, i primi mesi del 2012 E per questo si esprime in tanti modi, si esprime sul piano del calo dei consumi Si esprime con il fatto che la propensione al risparmio delle famiglie ha raggiunto il minimo storico dal 1995 Anche se nell'ultimo trimestre abbiamo assistito anche a una leggera ripresa E questo perché in qualche modo le famiglie dopo aver dato fondo ai propri risparmi Per cercare di tenere botta alla crisi che stavano vivendo Si ritrovano invece a dover fare i conti con una crisi che ha caratteristiche diverse Che comincia ad essere più lunga e quindi percepiscono che è necessario anche fare attenzione A mantenere i propri risparmi in prospettiva E questo è un elemento particolarmente importante Perché una delle caratteristiche di questa crisi è stato anche il fatto Che noi non abbiamo assistito a una crescita così forte, diciamo così, della povertà Come sarebbe potuto essere Perché le famiglie, la famiglia in qualche modo è riuscita ad agire come tampone In qualche modo di questa crisi Come ammortizzatore sociale vero e proprio In sostanza quello che è successo in questi anni è che a fronte di un crollo dell'occupazione soprattutto giovanile Perché l'80% del lavoro che si è perso è stato lavoro giovanile Che cosa è successo? Che la Cassa Integrazione ha agito come difesa per i capofamiglia In qualche modo E la famiglia ha agito come ammortizzatore per i figli espulsi dal mercato del lavoro Quindi in sostanza noi abbiamo avuto una situazione in cui due ammortizzatori sociali fondamentali Hanno fatto sì che la situazione non degenerasse più di quanto non è avvenuto Se non ci fosse stata la famiglia in qualche modo con la permanenza o il ritorno degli stessi giovani all'interno della famiglia di origine Avremmo avuto e fossero stati colpiti per esempio i capi famiglia Avremmo avuto un'incidenza di povertà molto superiore Perché è evidente che il reddito di un giovane è un reddito che non è il reddito fondamentale della famiglia Considerando che la maggioranza dei giovani colpiti erano poi giovani che vivevano all'interno della famiglia di origine Però questo argine diciamo si va purtroppo sveritolando Questo è un problema serio che c'è ovviamente Perché questo è un argine, è un qualcosa che può tamponare per una fase, per una fase limitata E che crea un problema di prospettiva, di futuro per il paese fondamentale Cioè può essere un argine contingentemente Non può esserlo alla lunga Le stesse famiglie si rendono conto cambiando la loro strategia anche rispetto ai risparmi Noi abbiamo retto anche perché le nostre famiglie sono famiglie che risparmiano molto rispetto anche ad altri paesi europei Questo in qualche modo ci ha difeso E su questo fronte c'è anche un altro terreno su cui bisogna approfondire la riflessione Perché la famiglia agisce in questo senso non solo da un punto di vista economico Ma anche per quanto riguarda le reti informali di aiuto In questo senso non è tanto solo la famiglia quanto soprattutto le donne E qui emerge un'altra criticità grande E cioè in prospettiva quello che sta succedendo è che il nostro paese tradizionalmente Si è sempre basato sul pilastro come sistema di welfare Sul pilastro delle reti di aiuto informale Del lavoro di cura gratuito fornito dalle donne Per i propri genitori anziani, per i propri nipoti Questo è un elemento di grande solidarietà che esiste nel nostro paese E questo viene a mancare anche questo? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che col passare degli anni Le donne non ce la fanno più a reggere questo ruolo Perché è cresciuta l'occupazione femminile E le donne hanno dovuto continuare a mantenere questo ruolo Con tutte le ore di lavoro estradomestico E quindi il lavoro di cura si è andato a sommare al lavoro estradomestico In un paese in cui la spesa sociale per la famiglia Per i nidi, i servizi sociali, la distribuzione che c'è sul territorio Che è totalmente sperequata al sud quasi non c'è In un paese di questo tipo il carico che le donne si trovano sulle spalle È molto, molto elevato E che cosa succede? Che le donne cominciano a tagliare Cioè i tagli li fanno anche le donne Perché non ce la fanno più Lavorano più degli uomini Sono assolutamente sovraccariche Non ce la fanno a reggere Quel carico cominciano a tagliare Però se tagliano le ore le donne Arrivano meno ore di aiuto a anziani non autosufficienti Arrivano meno ore di aiuto ai nipoti E questo sta avvenendo parallelamente al taglio anche sul piano della spesa sociale Quindi il rischio qual è? Che anche questo ruolo informale che la famiglia svolgeva tramite le donne in particolare Di assistenza e cura verso altri Viene messo in crisi E quindi noi avremmo bisogno di rifondare il nostro sistema di welfare Anche su questo per garantire il soddisfacimento dei bisogni Dei soggetti più svantaggiati E purtroppo stiamo in un momento in cui invece non si investe diciamo su questo terreno Quindi non c'è un problema solo di mancanza di lavoro C'è un problema pure di chi si potrà far carico Di quei bisogni a cui prima davano risposta alle donne E ora non possono più darlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti